Io sono per un 25 aprile che non sia fonte di divisione, ma che sia anzi una data per tutti. Sono cioè per un 25 aprile non ostile. Un 25 aprile per tutti, come succede in tanti altri paesi. Anche negli Stati Uniti o in Francia la data fondante nasce da un conflitto e da una divisione, ma poi viene superato e quella data resta per tutti quanti. Noi non abbiamo bisogno di cercare un'altra data, ce l'abbiamo già. E' il 25 aprile, la liberazione dalla dittatura e dal nazifascismo. Naturalmente so che si tratta di una data divisiva, lo so benissimo, ma non dovrebbe esserlo. Perché per quello che mi riguarda, la pietà per chi è morto, per chi ha perduto la vita, oggi come ieri, è uguale per tutti. Non faccio distinzione su da che parte della barricata stava. Pietà per tutti coloro che sono caduti. Però il giudizio è diverso, profondamente diverso. C'era chi a 16 anni come a 80 allora combatteva per la dittatura e lo sapeva. E c'era chi a 16 anni come a 80 allora combatteva per la libertà e lo sapeva. E noi non possiamo trascurare, non possiamo ignorare questa fondamentale, profonda differenza, nel giudizio storico e in qualche misura anche etico. Questa differenza non va dimenticata. Ma a partire da questa, il 25 aprile è la data fondante per tutti. Anche con il suo canto, Bella Ciao, che ormai è un canto internazionale, che si canta in tutto il mondo, da Cuba alla Spagna, dagli Stati Uniti, addirittura all'Inghilterra. E che ha una radice antica, Yiddish, che certamente non può essere trasformata a rango di canzone provinciale. È una canzone di libertà che vale per tutto il mondo, cosicché la data e la canzone siano finalmente uniche per tutti, per tutti quanti gli italiani. Non abbiamo bisogno di cercare altre date, già ce le abbiamo. E condividerle è soltanto un piccolo sforzo della volontà nel riconoscimento di quella che è la nostra storia.